C'è una volta una principessa di nome di un figrato. Che bella la mia casetta di paiglietta! E in una torre invece viveva una malefica strega che ogni giorno si guardava allo specchio e diceva Specchio, specchio, chi è la più bella? Lo specchio quel giorno gli rispose che lei era bella, ma c'era una ragazzina di nome Giglio Tigrato che era più bella di lei. Allora la strega andrà a chiamare il suo amato stregone e gli disse Aiuto Gersmerardo, sai che c'è una più bella di me! Sì, lo so, ma non preoccuparti, l'avveleneremo insieme. La sua scarpetta! Prendiamo la scarpetta e avveleniamo la strega! Sì, sì, sì! Corpetta! Le la dobbiamo far provare immediatamente! Però tu ti devi trovare il suo amato strega, oppure ti riconoscerò? Sì, giusto, vado!